Siamo qui con Capasso dell'UFR, che partita è stata? Purtroppo una sconfitta ma buon gioco. È stata una gran bella partita, chi l'ha vista penso sia anche abbastanza divertito. È stata una partita combattuta, eravamo tutti e due tempi, forse dovevamo fare qualcosa in più, nel senso abbiamo creato qualcosa di più nel secondo tempo, nel primo molto equilibrata, decisa poi da un calcio di punizione molto bello, del loro numero 10 se non sbaglio. Però comunque partita equilibrata, combattuta, loro secondo me sono una squadra fortissima. Siamo al Maccabi, sono le due migliori del campionato e si è visto, insomma, giocano bene palla da una parte e dall'altra. Siamo riusciti a dire la nostra, abbiamo accorciato sul 2-0, un paio di situazioni dentro l'area ce le siamo mangiate, tra virgolette, non siamo stati concreti, poi un errore difensivo ha portato sotto di altri due gol, insomma, 3-1. Sì, un grande secondo tempo che vi avevo anche visto bravi nel riaccendere quelle speranze con il gol dell'1-2, poi il finale comunque è arrivato il terzo gol, ma comunque il secondo tempo è da grande squadra. Sì, il secondo tempo devo dire è stato molto buono, siamo riusciti ad allargare bene il gioco sulle fasce, a proporci, a tagliare dentro. Peccato perché potevamo fare sicuramente qualcosa di più, questo comunque ci insegna che se costruiamo qualcosa settimanalmente possiamo, insomma, mettere le basi per qualcosa di importante, sia in questa stagione, perché comunque siamo ancora in corsa sulle due coppe, che anche le prossime stagioni, insomma. Bisogna comunque continuare a lavorare e partecipare agli allenamenti, perché comunque fa bene sia a livello di gruppo che a livello individuale per tenuta tecnico, tattica, atletica. Quindi, insomma, il mio augurio è quello di continuare sulla falsa riga del secondo tempo, inanellare buone prestazioni e questo, insomma. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.